Lamberto Vitali è stato un importante storico dell'arte, critico, collezionista e storico della fotografia italiana, oltre ad essere fotografo e testimone nelle sue immagini della vastità dei suoi interessi e delle relazioni che ebbe con artisti, curatori e critici. Il Civico Archivio Fotografico di Milano conserva sia la sua collezione di fotografia dell'Ottocento, pervenuta nel 1995 per l'ascito testamentario, circa 4.000 fotografie, sia le fotografie da lui scattate, pervenute nel 2014 in donazione, circa 20.000 fotografie. Entrambe le collezioni sono consultabili sulla banca dati istituzionale fotografieincomune.it e a Vitali è stato dedicato, a cuore di chi parla, un volume nel 2004. Uno degli aspetti meno noti della sua attività fu quello di promotore di importanti mostre fotografiche a Milano, tra cui le mostre dedicate ad Enric Artie Bresson e a Werner Bischoff, che si tennero al Palazzo della Permanente nel 1956 e nel 1958, e la mostra della collezione di Enric Gershon, tenutasi all'undicesima triennale di Milano del 1957, che comprendeva 400 immagini sull'intera storia della fotografia e a cui Vitali aveva aggiunto una più piccola mostra sulla fotografia italiana dell'Ottocento. Parleremo però dell'importante mostra The Family of Men, curata da Edward Steichen al Museum of Modern Art di New York nel 1955, che Vitali riuscì a portare nel 1959 al PAC, il padiglione d'arte contemporanea, costruito nel 1954 su progetto di Ignazio Gardella e scelto per la mostra in virtù delle sue caratteristiche strutturali contemporanee, in grado di consentire un allestimento molto vicino a quello originario. L'interesse per l'arte contemporanea aveva portato Vitali ad avere frequenti contatti e scambi epistolari con studiosi e critici di fama internazionale, tra cui James Stroll Sobey, direttore del Departimento di Pittura e Scultura del MoMA, Alfred Barr, direttore dello stesso museo, ma anche Beaumont Newell, primo curatore del Dipartimento di Fotografia del MoMA aperto nel 1940 e curatore di importanti esposizioni. Grazie a queste frequentazioni Vitali aveva ampliato le proprie conoscenze in ambito fotografico e quindi si era fatto promotore di grandi mostre di fotografia, inserendo il capoluogo Lombardo nei grandi circuiti espositivi internazionali. Qui vediamo la mostra The Family of Men al PAC. La mostra rappresentava la cultura ufficiale dell'America del dopoguerra e un'ideologia progressista che verrà esportata in tutto il mondo, arrivando in Europa tra il 1956 e il 1965 con diverse tappe anche italiane. Fu a Roma nel 1956, a Milano e infine Torino nell'aprile maggio del 1959. A Milano, col titolo La Famiglia dell'Uomo, si tiene appunto al PAC tra il 18 febbraio e il 22 marzo del 1959, grazie a Vitali che l'aveva vista a Zurigo e l'aveva quindi chiesta al MoMA e che ne restituisce una vivida testimonianza con numerose fotografie da lui scattate proprio il giorno dell'inaugurazione e che qui vediamo in sequenza. Da notare, per inciso, che la mostra venne organizzata in Italia dall'USIS, United States Information Service, dipendente dall'USIA, United States Information Agency di Washington. Questo istituto aveva diverse sedi in Italia e aveva compiti di propaganda politica e culturale, in cui rientrava anche la promozione e circolazione delle grandi esposizioni come The Family of Men. Ma quale fu il senso di questa importante mostra arrivata a Milano? Introducendo il catalogo di questa mostra tenutasi al MoMA, nel 1955 Steichen chiariva gli obiettivi del progetto e cosa fosse per lui l'arte della fotografia. Un processo per dare forma alle idee, ma anche un'arte che si colloca al centro di una concezione del mondo segnata da un nuovo e profondo umanesimo, uno specchio dell'essenziale unità del genere umano, degli elementi universali comuni e rintracciabili nella vita quotidiana degli esseri umani e che la fotografia può spiegare e illustrare, aiutando la comunicazione tra gli individui. L'impresa è un evento senza precedenti, vengono esposte 503 fotografie di 273 fotografi famosi o meno noti provenienti da 68 paesi in tutto il mondo. Le fotografie sono scelte tra 10.000 fotografie classificate in temi e a loro volta selezionate da altri 2 milioni di fotografie arrivate a tutto il mondo. Il lavoro di progettazione dura tre anni, vede lavorare fianco a fianco Steichen con Wayne Miller, suo compagno in guerra e fotografo di Life e dell'Agenzia Magnum, e sua moglie Johan. Carl Sandburg, poeta e cognato di Steichen, che scriverà il prologo al catalogo. Dorothy Norman, scrittice e fotografa, già amica anche del famoso Alfred Stiglitz. La scelta delle fotografie vede passare poi in rassegna centinaia di studi, archivi fotografici, agenzie, con particolare attenzione agli archivi di Life e dell'Agenzia Magnum, fondata subito dopo la guerra nel 1947, alla quale molti dei fotografi, poi incluso nel progetto, appartengono. La selezione mescola abilmente diverse tipologie di fotografie, privilegiando quelle più vicine al reportage e alla fotografia cosiddetta umanista, sviluppatasi in Francia e poi diffusasi oltre i confini europei, rappresentata da fotografi come Douano, Pouba, Roni, Isi, ispirati da Cartier-Bresson, e dai fotografi che lavoravano per la rivista Realité. Oltre agli umanisti, francesi erano presenti fotografi di altre tendenze, e che presto si sarebbero però un po' allontanati da questa visione universalistica e positiva, come Robert Frank, che proprio nel 1955 intraprendeva un lungo viaggio negli States, grazie a una borsa di studio della Fondazione Guggenheim, e tre anni dopo pubblicava parte delle fotografie scattate nel volume Les Américains, con l'editore del Pierre, che proponeva una visione del popolo americano, molto agli antipodi, nettamente diversa rispetto a quella proposta da questa mostra, una visione senza alcuna apologia e esaltazione dell'America, ma piuttosto con l'accento sulle contraddizioni della società. Non mancavano naturalmente nella mossa i principali fotografi della Magnum, da Cartier-Bresson a Capa, Bischoff a Seymour, o altri fotografi americani come Weston, Ansel Adams, Irving Penn, Eisenstadt, Bill Brandt, Russell Lee e molti altri. Le nomi del successo della mostra, teste vari dal messaggio di pace e di opposizione a ogni guerra, era da appena finita la guerra di Corea, che l'esposizione voleva comunicare, in un periodo segnato dalle tensioni della guerra fredda e dalle preoccupazioni per il possibile ripetersi delle tragedie belliche. Le fotografie quindi insistono su tutto ciò che accomuna gli esseri umani, sottolineando i momenti fondamentali dell'esperienza umana, dalla nascita alla costituzione della famiglia, all'infanzia, al gioco, alla musica, alla danza, alla scuola, allo studio, al lavoro, alle relazioni umane, fino alla spiritualità e riti religiosi e sociali, alla guerra e alla morte. Ogni tappa è declinata in immagini che accostano popoli e culture differenti, secondo la tesi di fondo del curatore, per la quale appunto tutti gli esseri umani in ogni parte del mondo sarebbero accomunati dalle medesime condizioni di vita e della medesime adesione a valori universali. Le fotografie non includono, se non per pochi esempi, i conflitti, la povertà, la fatica, la solitudine e la morte. Abbiamo ad esempio una sola immagine sulla tragedia dell'Olocausto, una fotografia che riprende un gruppo di ebrei deportati dal ghetto di Varsavia, seguita poi da alcune immagini sulla disperazione seguita alla guerra di Corea. Ecco, la mostra sottolinea, fino ad arrivare a una fotografia importante, tutta la sequenza appunto della vita umana e si conclude con una grande immagine dell'Assemblea delle Nazioni Unite per sottolineare appunto la vittoria contro la guerra. L'allestimento, che poi vedremo riprodurre al PAC, fu seguito da un'equipe coordinata da Steichen, che corrompendeva Homer Page, responsabile degli ingrandimenti fotografici, Paul Rudolf, architetto responsabile dell'allestimento, e l'importante grafico e art director amico di Lamberto Vitali, Leo Leonni. La mostra è di fatto una grande opera anche in sé che presenta le fotografie attraverso un apparato scenografico dalla grafica coordinata e determinata a condizionare e indirizzare la percezione da parte del pubblico il senso da conferire alle immagini. E' proprio l'elaborazione del pensiero di Steichen, che aveva avuto un ruolo fondamentale all'interno della fotografia a livello mondiale sin dalle sue prime esperienze in Europa fino poi alla conduzione del Dipartimento di Fotografia del MoMA appunto a New York. La mostra, sia negli anni del Grand Tour mondiale, sia negli anni successivi, diviene oggetto di costante attenzione, ha un successo enorme ed è anche oggetto di analisi e commenti contrastanti che alimentano un dibattito a più voci, tra cui vanno sottolineate le voci di Roland Barthes e di Susan Sontag. L'intuale francese Roland Barthes ne scrive nel suo Mitologie, dopo aver visitato la mostra nella tappa parigina al Museo Nazionale d'Arte Moderne di Parigi nel 1956, sottolineando come essa incarni il mito ambiguo della comunità umana e posto in un'essenza umana universale secondo un disegno spiritualista che la sottrae al determinismo della storia. La posizione mostra anche secondo Barthes lo scacco di una fotografia che in questo modo non insegna molto, sottrae i fatti naturali al vaglio critico degli uomini, alimenta un universalismo che ratifica l'immutabilità del mondo non più trasformabile. Più di 15 anni dopo un'altra voce critica fu quella di Susan Sontag che riprese l'approccio critico di Barthes citando la mostra come ultima manifestazione dell'afflato universalistico di Walt Whitman. Quando Susan Sontag ne scrive si è chiusa da poco al MoMA, siamo nel 1972, il Dipartimento di Fotografia è diretto da John Sarkovsky, la retrospettiva di Diane Arbus, che ha visto la medesima grande affluenza di pubblico di The Family of Men, ma è da considerarsi all'opposto, poiché non sottolinea in modo rassicurante l'unità del gelio romano, ma al contrario ne mette risalto differenze, brutture e difformità, così come ha voluto fare nel suo lavoro la fotografa scomparsa l'anno prima. L'umanità non è una tuttavia ed entrambe le mostre, secondo Sontag, rendono irrilevanti la politica e la storia, l'una universalizzando la condizione umana nella gioia, l'altra atomizzandola nell'orrore. La mostra The Family of Men in ogni caso ebbe uno straordinario successo e fu considerata una vera e propria opera in sé e quindi donata da Eduard Steichen al governo del Lussemburgo, sua terra natale nel 1965, a conclusione del tour internazionale, per essere destinata a un'esposizione permanente. Fu quindi allestita nuovamente al Museo Omonimo di Chateau de Clairvaux e dal 2003 è iscritta nel registro internazionale dell'UNESCO's Memory of the World.